Ciao, io sono Silvia e io sono Tania. Frequentiamo il secondo anno di magistrale in lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale presso l'Università degli Studi dell'Insubria, curriculum traduzione giuridica. Vorremmo parlarvi della nostra esperienza. Da un lato il nostro corso si focalizza sul miglioramento delle nostre competenze linguistiche e dall'altro lato invece sullo studio di materie riguardante il diritto perché la conoscenza di questi argomenti è fondamentale per chiunque voglia intraprendere la carriera di traduttore giuridico. Adesso che ci stiamo avvicinando alla fine del nostro percorso ci sentiamo sicuramente pronte a dimetterci nel mondo del lavoro. In questi anni abbiamo cresciuto le nostre competenze anche grazie ai nostri docenti che ci hanno sempre seguito da vicino. Siamo sicuri che se sceglierete di iscrivervi a questo corso di laurea non ve ne pentirete. Sappiamo benissimo che è una scelta difficile e che cambierà il vostro futuro. Ma non abbiate paura di scegliere l'insubria. In bocca al lupo!